E' chiuso Ce l'hai in mente da... Bello, il resto è fuori dal cazzo Buongiorno Ho subito una puttana col camper Si gli abbiamo bussato un botto Una puttana in un parcheggio Una troia Quelle che ti scopano soldi Ma dove? Quando? Tipo quelle che fanno Sì ma quelle di 50 anni